La candra dell'auto, accanto all'albero visibilmente impattato ed un mazzo di fiori nel ricordo di Raffaella Di Benedetto, 18 anni di Barletta. E quanto rimane in via Caffiero del terribile incidente mortale costato la vita alla giovane studentessa, una strada in pieno centro cittadino che torna alla ribalta della cronaca a causa della sua pericolosità e dell'assoluta imprudenza con cui gli automobilisti la percorrono. A lasciare sgomenti il fatto che solo qualche ora prima del sinistro mortale un altro incidente si era verificato sempre in loco. Erano infatti le 19.45 di sabato quando una Renault Megane nel tentativo di evitare uno scontro frontale con un'auto in fase di sorpasso in direzione opposta è finita contro le recinzioni del fossato del Castello Svevo. In questo caso tre feriti, tre donne e due ricoverate al di Miccoli di Barletta, la terza al Bonomo di Andria. Una tragedia preannunciata dunque visto che solo qualche ora dopo era da poco passata la mezzanotte una Fiat Punto ha sbandato facendo perdere il controllo al conducente che si è andato a schiantare contro un albero in corrispondenza del rettilineo dove erano presenti segni della brusca frenata. Nell'auto viaggiavano tre ragazzi a causa del violento impatto contro l'albero. La vittima Raffaella Di Benedetto è stata sbalzata fuori dalla vittura. Le sue condizioni sono apparse da subito disperate per i soccorritori del 118 ma il loro disperato tentativo di salvarla non è bastato. Una ragazza ha riportato rottura della milza e frattura del bacino ed è stata trasportata all'ospedale Bonomo di Andria assieme al conducente dell'auto che ha riportato una serie di traumi. Una tragedia che non può lasciare indifferenti. Due episodi a distanza di poche ore l'uno dall'altro che scuotono le coscienze e come spesso accade a fatti ormai compiuti è forse tempo di agire per rendere sicura una strada sempre più letto di morte.